Buongiorno a tutti, mi chiamo Giorgia e faccio l'insegnante di yoga, la disciplina che mi ha sostenuto e supportato a gestire lo stress quando da figlia sono diventata gardiva di mia mamma. È una pratica che va sperimentata personalmente per poterne godere dei benefici fisici e mentali. Io condurrò delle lezioni di yoga il martedì e il giovedì dalle 18 alle 19 e tutti coloro che volessero partecipare possono inviare una mail a infochiocciolale.it oppure chiamando il numero verde 800 388 330. Vi ringrazio e vi aspetto numerosi. Grazie. 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 Grazie.